Lo Spirito Santo scenderà su di te. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona quarta domenica di avvento. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal 26 al 38. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth. A una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. A me. Carissimi amici, ecco il Vangelo di oggi, questa quarta domenica di avvento che ci prepara al Natale. Siamo nell'anno B, ma come abbiamo detto domenica scorsa, il Vangelo secondo Marco è molto breve e la liturgia a volte usa anche altri Vangeli. Oggi accogliamo Luca, accogliamo l'episodio dell'Annunciazione e in vista del Natale vorrei donarvi una luce molto particolare, questa volta sullo Spirito Santo, perché è la persona fondamentale affinché avvenga la nascita di Gesù. Maria concepisce per opera dello Spirito Santo. Maria è ripiena dello Spirito Santo. Maria fa esperienza dello Spirito di Dio. Maria, nello Spirito Santo, riceve il dono di Gesù. Guardate che la vita del cristiano è una vita pneumatologica. Dal greco pneuma che significa spirito. Pneuma aghio, Spirito Santo. Quanto è importante che noi accogliamo lo Spirito Santo nella nostra vita. Il Natale è la discesa dello Spirito Santo che dona a noi Gesù. Questa è la buona notizia, carissimi amici. La venuta di Gesù nel Natale è fortemente impregnata dalla presenza dello Spirito Santo. Il Natale significa vivere la discesa dello Spirito Santo che porta a noi Gesù. Ci rivela il Figlio di Dio. La vita cristiana, cari amici, è segnata, è accompagnata da quando nasciamo a quando moriamo, dallo Spirito Santo perché è Lui che ci porta a Dio. L'angelo dice a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco la nostra forza, ecco la nostra gioia, ecco la nostra visione profetica quotidiana. E' lo Spirito di Dio che illumina i nostri passi. E' lo Spirito di Dio che mi fa fare l'esperienza della presenza di Gesù nella mia vita. E domani noi, giorno di Natale, ascolteremo questo bellissimo annuncio. Il Verbo si è fatto carne. Ma senza lo Spirito Santo non lo comprendiamo. Maria riceve questa buona notizia. E' Lui, lo Spirito Santo, che scenderà su di te, che ti aprirà gli occhi, che ti aprirà il cuore e che feconderà la tua vita. Questo è diretto anche a noi, è diretto a te, caro amico, caro fratello, cara sorella. Lo Spirito Santo vuole avere da parte tua a disposizione un terreno fertile. Dove Lui può seminare. Ha seminato in Maria. Può fare grandi cose anche nella tua vita. Che cos'è l'esperienza del Natale? Sono l'esperienza che lo Spirito di Dio, quando trova un terreno fertile, un cuore aperto e disponibile, come quello di Maria, produce grande frutto. Fa grandi cose. Fa le cose più belle. Gesù viene dallo Spirito Santo. Gesù è il dono di Dio per te. E non è un dono romantico, è un dono concreto, vivo. È un dono che si chiama soluzione a tutti i problemi. Gesù è l'inviato del Padre. Ma soltanto se viviamo nello Spirito Santo facciamo questa esperienza. Altrimenti è un romanticismo il Natale. È un tradizionalismo. Potremmo combattere il consumismo, tanti aspetti esteriori che avvengono durante il Natale, ma senza lo Spirito di Dio non facciamo l'esperienza di Gesù. combattere certe mentalità non serve a nulla. Annunciamo che Gesù è vivo. Annunciamo come i pastori. È nato un bambino. È nato il figlio di Dio. È nata la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Questo ha bisogno al mondo di sentire. Non ha bisogno di sentire sempre critiche, giudizi, prontolamenti su una mentalità. Ha bisogno di sentire che c'è in mezzo a noi il Salvatore, un Salvatore potente. Ma questo lo potremo fare solo se seguiamo lo Spirito Santo. Se lasciamo che Lui entri nel nostro cuore, apra la nostra bocca al buon annuncio, alla buona novella. Ecco l'angelo Gabriele annuncia buone notizie. Non temere. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Porterà Gesù. Porterà cose nuove per te in questo Natale. Spirito Santo scendi su di noi. Vieni nella mia vita. Spirito Santo ho bisogno di te. Spirito Santo voglio incontrare Gesù in questo Natale. Spirito Santo donami una nuova esperienza. più concreta, più concreta di tutto ciò che il mondo mi offre. Spirito Santo riempi la mia casa, riempi la mia mente, affinché io faccia questa bellissima, straordinaria esperienza del Verbo che si è fatto carne. E venne ad abitare, e viene anche oggi ad abitare nella mia casa e nella mia vita. A te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. A me. Cari amici, lo slogan di oggi è pneumatologico. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Scende su di te. Quando tu lo invochi, quando tu hai un cuore aperto. Preparti alle grandi cose di Dio. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e una buona giornata. Un'attesa della venuta del Signore da parte mia e della coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani per il Natale. Ciao. Parlami, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto.